Guarda, in realtà è davvero semplicissimo, basta guardarle. Questa è una mini lepre e invece questa è una lepre. Hanno tutte e due la stessa età e come si nota sono completamente diverse. La lepre innanzitutto è tipo quattro volte più grande della mini lepre e anche pelo e orecchie sono molto molto diverse.